Siene Padre, ma vuole che i figli siano pure immacolati davanti ai suoi occhi. Signore, Tu sei Padre nostro, Tu comprendi le nostre miserie, le nostre difficoltà, però vuoi che noi ci purifichiamo ogni giorno, nella mente, nel cuore, nei sensi, per stare davanti a Te e offrirti così un sacrificio di rote. Manda, Signore, dal cielo l'acqua, perché noi possiamo bagnarci dall'acqua che scende dal cielo e purificarci dai nostri peccati. Manda il fuoco dal cielo, perché siano bruciate tutte le scorie nostre e noi, puri di mente e di cuore, possiamo stare davanti a Te, chiamarti Padre, e offrirti ancora una volta l'oblazione pura e santa in Cristo, Signore nostro Salvatore. Spirito Verrà rispondo Grazie di misericordia, di pentimento, che l'acqua è sceso su di noi, è per la misericordia di Dio che noi siamo lavati e purificati, E' la misericordia di Dio che ci lava dei nostri peccati, a prescindere dai nostri atti di giustizia, perché Dio è grande e buono e vuole pure i suoi figli. Solo chiede al Signore che ci lasciamo purificare, che ci lasciamo lavare, che facciamo avare a Lui perché Egli vuole fare di noi creature nuove. O Signore, noi Ti ringraziamo di quello che Hai fatto. O Padre che dal ragnello immolato sulla croce fai scaturire l'estorgente dell'acqua viva. O Cristo che rinomi la giovinezza della Chiesa nella vacca dell'acqua con la parola della vita. O Spirito che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. O Dio che raduni la Tua Chiesa, sposa il corpo del Signore. Benedici il tuo popolo, benedici tutti, piccoli e grandi, in questo momento. Era viva in ciascuno di noi per mezzo di quest'acqua. Il curioso ricordo della santa giornata in cui ricevemmo il battesimo e nascemmo la vita nuova. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amore. Madre dell'umanità Madre della Chiesa, luogo di salvezza Madre dell'umanità Perché tutta l'umanità è chiamata ad essere l'umanità di Cristo, il corpo di Cristo e Maria è la Madre di tutti gli uomini. E innanzitutto è la Madre nostra La Madre di colore che credono nel Cristo Perché sono i credenti Che sono nell'ambito della salvezza Chi crederà sarà salvo E la Madre dei credenti Lei che fu la prima a credere Beata te che hai creduto Diceva nello Spirito Santo Elisabetta a Maria E beati noi che come Maria abbiamo creduto Perché per noi si adempino Come per Maria Le promesse di Dio La promessa Della salvezza In Cristo Signore Però Maria è la Madre di tutta l'umanità O altre pecore che non sono di questo vine Ed anche questo io debbo condurre Perché sia un solo vine E un solo pastore Ed è Maria Che questa mattina Ribadisce Questo piano di vino E ribadisce il suo posto Nell'attualizzazione di questo piano Lei la Madre di Cristo Lei che ha ricevuto lo Spirito di Cristo Lei Proprio in collaborazione con lo Spirito Deve richiamare a Cristo Tutta l'umanità Perché tutti gli uomini Effettivamente Ricevano la salvezza Perché questo è il disegno del Padre Quando ha mandato il suo figlio nel mondo Egli ha mandato il suo regenito del mondo Non perché il mondo si danni Ma perché il mondo si salvi Per mezzo di lui È a questo piano che noi dobbiamo collaborare Insieme con Maria Noi chiamati dallo Spirito Santo A pregare e a notare Come possiamo noi inserirci in questo piano? Pregando Pregando La preghiera ottiene più Che l'azione Dobbiamo pregare molto Per la conversione Del mondo Innanzitutto Per la riconversione Dei cristiani A Cristo Signore Perché Il mondo cristiano Non crede più E la grande debolezza Che noi abbiamo Di fronte ai nemici Che credono di più Nella loro religione Che non è quella vera Per cui noi siamo indeboliti all'interno Dobbiamo perciò pregare Per robustire La nostra fede Cementare la nostra carità Perché è la carità Perché è la carità Che rende testimonianza Che Cristo è in mezzo a noi E alimentare la speranza Riponendo Non nei beni terreni La nostra Attenzione Ma nei beni ultraterreni Non nei valori materiali Ma nei valori spirituali dell'uomo Maria Deve essere con noi Per riconquistare I cristiani A Cristo Perché ci sono infiltrati In mezzo a noi Tante dottrine Errone Tanti costumi perversi E l'etica cristiana Che ne soffre terribilmente E l'etica cristiana Quando è carente Dei valori Distrugge la fede Atena la speranza Spegna la carità E il cristianesimo Resta soltanto di nome Ma non di fatto Noi siamo nel mondo Circa un miliardo di cattolici Siamo nel mondo Oltre un miliardo e mezzo Di cristiani Ma dietro di noi ci sono altri Ci sono i musulmani Ci sono un miliardo e duecentomila Hanno superato Hanno superato Noi cattolici Non hanno superato I cristiani Messi insieme Ma ricordo Sempre Lo voglio ricordare Perché Rappresentano Un pericolo grande Per la fede nostra cristiana Per la civiltà stessa cristiana Perché Se si fa meno di Cristo Noi siamo un terreno Fertile Per loro Siamo un terreno Aperto Per loro Soltanto la nostra fede Ci può Salvare Soltanto un'etica cristiana Ben vissuta Ci può salvare Per cui Il pericolo Non è tanto esterno Quanto interno Il grande pericolo È la nostra debolezza Nella fede E nella morale Perché Se noi Credessimo di più Se noi Fossimo più Integri Cristiani Tutti i musulmani Di questo mondo E tutti i budisti E tutti gli altri Non potrebbero Far nulla E noi Cresceremmo Non soltanto di numero Ma in qualità E in forza E noi Assicureremmo Il regno di Cristo In questo mondo Dobbiamo perciò Pregare Noi rinnovati Nello spirito Perché Quanto Tiene la preghiera Non ottiene La nostra azione Pregare Incessantemente Perché I nemici Non abbiano A prevalere Giù di noi Non sono nemici Con le armi In mano Ma sono nemici Nello spirito E se lo spirito Non è pronto Se il nostro Cristianesimo Non è valido E allora I nemici Potranno avere Ragione Giù di noi E per nemici Intendo Tutti quanti Quelli I quali Sotto L'azione Del marigno Incidono La fede Cristiana E la vita Cristiana Ma intendo Ma intendo Anche Parlare Di quella Masse Di popolo Che noi Chiamiamo Musulmani I quali Credono Nell'unico Dio Credono Anche E veneno La madonna Nostra madre Perché Madre di Cristo Il grande Profeta Ma non Dio I quali Rappresentano È un pericolo Per noi Non tanto Perché Loro Scendono In mezzo a noi Sono presenti In mezzo a noi Quanto perché Noi siamo Deboli Nella fede E nella Osservanza Dei precetti Cristiani Ed è la nostra Debolezza Il vero Pericolo Non è la loro Presenza Però la loro Presenza È pericolosa Per noi Appunto Per la mancanza Di fede Per la mancanza Di etica Cristiana Veramente Vissuta Dobbiamo Pregare Almeno Da questo Dobbiamo Prendere Esempio Da questo Popolo Che prega Molto Noi ci Noi ci Sentiamo Un miliardo Di cattolici Ma quanti Cattolici Vivono La fede Cattolica Nella preghiera Quanti Cattolici Pregano E Osservano Quanto I pusermani Pregano E Osservano Se è vero Che noi Siamo Una percentuale Pi' Alta Di loro Come cristiani Però Come osservanza Loro Sono di gran Lunga Superiori A noi E cioè Gli osservanti Della legge Gli osservanti Della preghiera Gli oranti Loro Sono In maggioranza Mentre Gli oranti Presso di noi Gli osservanti Dei comandamenti Sono in poverose Minalanza Ecco perché Le cifre Non rendono bene La situazione In cui noi Ci troviamo Ed è la preghiera La loro forza Noi invece Non preghiamo Noi Siamo state Sucitate Dallo Spirito Santo Per pregare I nostri Gruppi Sono gruppi Di preghiera Perché Perché la lode E la preghiera Costacola il nemico Perché dietro Tutta questa Massa Che avanza C'è il nemico Che avanza Per contrattare Il regno Di Cristo La discendenza Dalla donna E dobbiamo Lottare Dobbiamo Lottare Con la nostra Fede E con la nostra Etica cristiana La prima lotta Come vi dicevo È pregare A noi sembra Che la preghiera Sia quasi Un tempo Sottratta La lotta Non è così È un tempo Di lotta Qualificata Quando Quattordici anni O meglio Quattordici secoli fa Il califo Oman Occupò Gerusalemme E diventò Terra Musulmana Però Si rispettava Ancora Il luogo Cristiano San Sofronio Padre Dalla Chiesa Patriarca Di Gerusalemme Invitò Il califo A venire Dalla Chiesa A pregare Insieme E il califo Si rifiutò Cortesemente Dicendo Guarda Patriarca Sofronio Se io Metto Piede In Chiesa Nella Vostra Basilica E pregorò Con i miei fedeli Quella terra Diventa mia Perché Dove io Prego Dove i musulmani Pregano Qui Quella terra Diventa Santa E diventa Terra nostra E' una mentalità Che si portano Il luogo Dove si prega Diventa Terra Musulmana Tutte le moschee Che si erigono In Italia E sono ormai Circa Cento moschee Quelle moschee Sono a terra Musulmana Nella mentalità Non sono Chieseretti In terra Straniera Quando noi Fabrichiamo In Chiesa In terra Straniera Quella terra Resta di Quella nazione Invece Nella mentalità Musulmana La moschee Ossì Il luogo Dove si prega Dove si stende Il tappetino Anche Quelle strade Quella Terra In quel momento Diventa Terra Santa Terra di loro E' una conquista Dalla terra Ecco perché Il pericolo è appunto In una mentalità Radicata In loro E' in una debolezza Di fede Presso di noi Dobbiamo lottare Lottare per conservare Integra la nostra fede Soprattutto Ribadire La centralità Di Cristo Vero Dio Vero Uomo Centralità Che viene Oggi Attaccata In Occidente Da tante Dottrine Erronee E che si è Indebolita Anche Presso di noi Noi Dubitiamo Di tanti E tanti Dombi Della fede Ed è questo Dubbio Che rende Facile L'ingresso Dell'errore Dobbiamo Crescere Nella fede Perché Se la nostra fede Vacilla La fede Dei nemici Che è più robusta Ci domina E ci sottrae Quel patrimonio Che noi abbiamo Ripeto Che la nostra Debolezza Non sono loro Non è la loro Presenza Ma la debolezza È la nostra Mancanza Di fede Mancanza Di costumi Cristiani Di convenzioni Proponde È la mancanza Di lotta Per mantenere Il patrimonio Cristiano Che noi Abbiamo Fratelli E sorelle È la Madonna Che ci invita A pregare E a lottare A lottare Per la tutela Dalla fede A lottare Perché La carità Tra di noi Che vince Tutte le forze Del male Sia così forte Da rinduttare Il nemico Perché Se il regno Nostro È diviso Da fazioni Da divisioni Da lotte Tra i popoli Da lotte Tra le nazioni Per accaparrarsi I beni terreni Il nemico Avanza Senza che Noi ce ne accorgiamo E un giorno Ci vedremo Terra straniera Ci vedremo Così Di una religione Nuova La religione Che avanza D'altro canto La Nièche Siamo Ricordiamo Il pericolo Di essere Acquariani Di essere Deopagani Con una Verniciatura Di cristianesimo Qui è il grande Pericolo Per cui Dobbiamo Lottare Lottare Per mantenere La fede Mantenere La speranza In Cristo Signore Mantenere Salda La carità Tra di noi E la Madonna Che ci invita A questa lotta Beata Beata Il creme Che ti ha portato E il seno Da cui Hai preso Il latte E Maria E Maria Risponde Beata Mi Deranno Tutte Le generazioni Però Gesù Risponde Sì Beata Mia Madre E Beata Che Che Sono Come Mia Madre Che Credono Maria Esaltata Per la Fede Beata I Colori Che Credono Ma Più Beati Color I Quali Ascoltano La Parola Di Dio E La Mettono In Pratica Noi Non Pratichiamo La Parola Di Dio La Pratica Cristiana Ed E E I Comandamenti Sono Malmenati La Nostra Vita Morale Non Corrisponde Alla Legge Di Dio Ma Non Mettiamo Come Vogliamo La Legge Del Signore I Comandamenti Di Dio Li Interpretiamo A modo Nosso Ridimensioniamo Secondo I Nostri Voleri I Nostri Costumi Questo E Profanare La Parola Del Signore Il Quale Dice Non Un'Iota Sola Non Una Sola I Passerà Dalla Legge I Comandamenti Non Perderanno Neanche Un'I Del Loro Valore Passeranno Il Cielo La Terra Ma La Mia Parola Un'Iota Sola Dalla Legge Una Virgola Sola Dei Comandamenti Di Dio Non Passerà E' Più Facile Che Crolli In Cielo La Terra Che Crolli Invece La Parola Di Dio Il Comandamento Del Signore Che Non Ci Tocca E Eterna E' Scritta Altra Che Osservanti Della Della Parola Della Perché Che la nostra Vita cristiana Sono Nata A Pregare Ma Il Pericolo E' Nella Nostra Debolezza Non Nella 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 Presenza Chiediamo Al Signore Perché Il Nostro Popolo Occidentale Che Geneticamente Finanziariamente E' Più Debole Posse Resistere O Maria I popoli Che Vengono Ad Occupare L'Europa O Dall'Oriente O Dal Sud Sono Popoli Finanziariamente Geneticamente E Religiosamente Forti O Maria Ti chiediamo Di Rafforzare La Nostra Fede E La Pratica Della Vita Cristiana Perché Cresciamo Nella Forza Genetica Che E' Venuta Meno Dei popoli Occidentali Soprattutto In Italia Ti chiediamo Maria Di Crescere Nella Distribuzione Epa Dei Beni In modo Che Tutti Possiamo Avere Necessaria La Vita Di Chiediamo Maria Di Rafforzarsi Religiosamente Da Quando La Religione E' Diventato Un Fatto Privato Mentre Per Gli Altri Popoli Divento Un Fatto Sociale Un Fatto Di Stato Noi Ci Troviamo Come Sbalzati Fuori Ci Sentiamo Molto Pi Deboli O Maria Fa Che La Religione Rientri Di Nuovo La Religione Cristiana Nelle Scuole Negli Uffici Nella Società Che La Religione Cristiana Sia Coltivata Come Religione Di Una Civiltà Cristiana Perché Siamo Noi Siamo Più Forti Dei Popoli Che Ci Assediano E Vogliono Invadersi Con I Loro Costumi La Loro Fede La Lora Forza Per Questo Maria Noi Ti Preghiamo Ti Preghiamo Maria Perché Le Nostre Famiglie Siano Insaldate Perché Il Centro Della Vita E La Famiglia Se La Famiglia Si Sfascia Se Gli Sposi Dopo Un anno Due Anni Tre Anni Non Sentano Più Niente L'uno Per L'altro E Per I Fatti Che Non Sentano Più Sfasciano Il Loro Matrimonio Quasicché È Tutto Nel Sentire Che Di Ponte Il Matrimonio Non Su Un Patto Fatto Davanti Dio Non Su Dovere O Signore Noi Ti Preghiamo Perché Le Nostre Famiglie Siano Risanate Nella Radice Perché Quando Ci Disposi Ci Disposi Davanti Dio Quando Ci Disposi Non Ti Pensa Al Divorzio Non Ti Pensa Un'Unione Momentanea Perché Questa È La Nostra Debolezza O Maria Ti Chiediamo Salva Le Nostre Famiglie Fin Da Nascere Salve Le Radici Della Società Cristiana Che Sono Appunto Le Famiglie E Il Matrimonio L'amore Di Coppia Che È Un Amore Eterno Perché Ci Unisce Davanti A Te E Il Matrimonio Lo Fai Tu Signore Tra Un Uomo La Donna Non Lo Fa Soltanto Un Uomo La Donna E Quando Manchiamo Di Fede Tra Di Noi Uomini Donne Sposi Manchiamo Non Soltanto Tra Di Noi Ma Contro Di Te Perché Sei Tu Che Sei A Presidio Dello Sponsarizio E Del Matrimonio Cristiano Per Questo Noi Signore Vergine Maria Ti Salvo Maria Le Nostre Famiglie Salvo I Nostri Figli Che Si Dotti Da Un Monde Che Ci Circonda Da Una Scuola Che Non Regi Più Da Istituzioni Che Non Regono Più Religiosamente A Che I Nostri Figli Non Sia Preda Di Dottrine Erronie Di Costumi Perversi Di Vizie Di Droghe Di Deviazioni Morali Per Questo O Maria Noi Ti Ti Preghiamo Maria Per La Nostra Salute Perché Tutto Questo Non Va A Favore Della Nostra Salute Né Spirituale Né Psicologica Né Fisica Perché Tante Malattie Oggi Imperversano Appunto Per Questi Mali Spirituali Non Atterriamo La Benedizione Di Dio E Noi Stessi Ci Indemoliamo E La Debolezza Che Si Stenda Tutto L'uomo Apri Le Porti A Tutte Le Malattie Apri Le Porti A Tutte Le Defezioni A Tutte Le Debolezze Debolezze Spirituali Debolezze Psicologiche Debolezze Visiche O Maria Salva La Nostra Salute Per Pensa Noi Ti Preghiamo E Adesso Fratelli E Sorelle Ascoltiamo Il Gemito Dei Più Colpiti Il Gemito Dei Dolenti Il Quale Te raccomanda Nella nostra Preghiera E Accompagniamo Queste Intenzioni Con la Preghiera Nostra Pregando Insieme Perché Scritto Pregate Gli Uni Per Gli Altri E Sarete Guariti Amén Grazie Signore Perché Stai toccando Le membra Di alcune Persone Il Polmono Di Un Uomo Affetto Da tumore La Gola Di Una Donna Con Un Nodolo Tu Vuoi Guarirle E Guarirai Ti Ringraziamo Signore Perché Tu Sta Toccando L'inguine Di Due Persone E Guarirai Queste Due Persone Grazie Signore Perché Stai Concedendo La Maternità Ad Una Donna Sposata Da 12 Anni E A Che Aspetta Ancora Un Figlio E Non C'era Il Signore Ti Allieterà Grazie Signore Per Tutte Le Grazie Che Stai Concedendo Ci Sono Molte Guarigioni Fisiche Ci Sono Guarigioni Spirituali C'è Una Guarigione Psicologica Di Una Persona Che Temeva Il Signore Dice Ci Sono Io Non Temere Più Io Risolverò La Tua Sorte Ed Io Ti Guarderò Dai Rimici Poi C'è Un Processo Che Volge Al Meglio Per Un Carcerato Da Tanto Tempo E Che Fa Soffrire La Famiglia Nel Prossimo Processo La Pena Sarà Alleviata Alcune Stanze Saranno Così Accolte E Per Un'altra Persona Ci Sarà Anche La Liberazione Da Un Reato Non Grave Ma Ma Questa Persona La Prima Che Ha Un Reato Grave Ce Sarà Allevemento Di Pena Per Una Modificazione Di Giudizio Nella Responsabilità Chiediamo Chiediamo Adesso Il Signore Di Poterle Benedire Per tutte Le altre Grazie Che Egli Ci Va Concedendo Irrobustiamo Però La Nostra Fede In Lui Irrobustiamo La Nostra Carità Tra Di Noi Perché Nella Fede In Lui E Nella Carità Tra Di Noi Che Germogliano Le Grazie Di Dio Alleluia Canto Numero La Vena Da Canto La Vena Sorgente Questa Vena In Maria Una Vena Che Scende Dalla Montagna Di Dio E Affiore Qui Sulla Terra Maria Che Come La Radice Piantata Dallo Spirito Santo Gesù È Germoglio Ma La Radice Immacolata Di Questa Pianta Unica E Maria Piantata Dallo Spirito Santo Qui Sulla Terra Dall'Immopolato Che Pianta L'Immacolato Sulla Terra Perché Germoglie Il Salvatore Gesù È Germoglio Di Una Radice Piantata Dallo Spirito Qui Sulla Terra E Allora Attingiamo A Questa Sorgente Nata Da Maria Alla Sorgente Del Salvatore Cogliamo E Gustiamo Il Frutto Di Quell' Albero Di Cui La Radice È Maria La Vena Da Cui Sgorga La Sorgente Questa Vena In Maria Una Vena Che Scende Dalla Montagna Di Dio E Affiora Qui Sulla Terra Maria Che Come La Radice Piantata Dallo Spirito Santo Gesù È Germoglio Ma La Radice Immapolata Di Questa Pianta Unica E Maria Piantata Dallo Spirito Santo Qui Sulla Terra Dall'Immopolato Che Pianta L'Immacolato Sulla Terra Perché Germoglie Il Salvatore Gesù È Germoglio Di Una Radice Piantata Dallo Spirito Qui Sulla Terra E Allora Attingiamo A Questa Sorgente Nata Da Maria Alla Sorgente Del Salvatore Cogliamo E Gustiamo Il Frutto Di Quell'albero Di Cui La Radice È Maria